Ciao mi chiamo Danilo e nella vita faccio anche il geometra dal 2023 nuovo adempimento se vuoi agevolare le spese con i bonus edilizi nuovo adempimento che riguarda l'attestazione SOA per le imprese le imprese a cui affiderai gli incarichi di esecuzione dei lavori per lavori di superiori a 516.000 euro te ne parlerò tra poco prima lascia mi piace al video iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e se vuoi accedere in modo più approfondito alle agevolazioni quindi alle informazioni sulle agevolazioni e non sbagliare ciò che stai per fare o facendo sul tuo immobile ti consiglio di verificare i contenuti per gli abbonati dove rispondo a domande che mi vengono inviate via email trovi tantissimi video già pubblicati e tantissimi ne pubblicherò ogni settimana ne aggiorno con nuove risposte la legge numero 51 del 20 maggio scorso che è stata la conversione in legge del decreto numero 21 del 2022 ha introdotto diverse novità quella di cui ti parlo oggi riguarda l'attestazione SOA per le imprese che dal 2023 eseguiranno i lavori che dovranno essere agevolati non solo con il super bonus ma anche con gli altri bonus ma andiamo per gradi il super bonus che è l'agevolazione quella più famosa quella che ha portato a conoscenza la massa dell'esistenza delle agevolazioni per i lavori di ristrutturazione ha subito moltissime modifiche da quando è uscita da maggio del 2020 la prima che mi viene in mente è l'introduzione l'estensione alla possibilità di agevolare anche gli edifici di unica proprietà composti da più unità poi c'è stata a metà 2020 l'introduzione della CILA super bonus che avrebbe dovuto superare le problematiche delle difformità e degli abusi in ultimo c'è stata la sequenza di modifiche antifrode che si sono rese necessarie a seguito di una denuncia da parte dell'agenzia delle entrate di svariati milioni di euro di frodi dovuti alla cessione del credito ma questo come sappiamo bene non riguarda principalmente il super bonus non prevalentemente il super bonus che aveva già dei controlli molto rigidi per quanto riguarda i prezzi da applicare comunque sono state fatte tante 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 modifiche inoltre ci si è messo di mezzo tutta la questione dei prezzi che sono aumentati e della difficoltà di approvvigionamento dei materiali ritardi che hanno portato anche alla proroga del sal 30% di cui ti ho parlato nei video precedenti come ti dicevo le modifiche antifrode quelle che hanno introdotto l'obbligo di attestazione della congruità delle spese anche per gli altri bonus bonus ristrutturazione bonus facciate eccetera e le restrizioni alla cessione del credito prima tolta eliminata tutta la cessione del credito tranne che per il primo passaggio poi introdotti due passaggi poi introdotto il quarto ora riaperto alla possibilità di cedere alle banche in qualsiasi momento comunque sempre a soggetti ben definiti tutte queste modifiche hanno interessano anche gli altri bonus così come quella che ti sto dicendo ora di cui ti parlo in questo video cioè dal 2023 per agevolare le spese tutte le spese del super bonus bonus casa sisma bonus ecco bonus facciate per agevolare le spese i lavori dovranno essere affidati ad imprese che hanno l'attestazione SOA questo quando i lavori sono superiori a 516.000 euro ora inizierà sicuramente la diatribua del 516.000 euro che significa il singolo intervento tutti gli interventi perché ci sono più agevolazioni io ritengo che come per il sal 30% delle uni familiari l'intenzione è quella di considerare il cantiere in toto quindi nel suo complesso un intervento globale superiore a 516.000 euro necessita per le imprese che eseguono lavori edilizi che abbiano l'attestazione SOA, la certificazione SOA ma che cos'è l'attestazione SOA? te lo vado a leggere velocemente la certificazione SOA è un attestato obbligatorio rilasciato da organismi di attestazione autorizzati che comprova la capacità economica e tecnica di un'impresa di qualificarsi per l'esecuzione di appalti pubblici infatti l'attestazione SOA è necessaria per aggiudicarsi gli appalti pubblici questo viene trasferito anche al privato ora di lavori di importo maggiore a 150.000 euro questo però riferito solo agli appalti pubblici e conferma inoltre che il soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica una volta ottenuta la certificazione SOA vale per 5 anni previa conferma di validità e viene emessa da organismi SOA appositamente autorizzati al termine di un'approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge riscontrabili negli ultimi 10 esercizi di attività dell'impresa interessata in particolare verranno presi in considerazione i lavori eseguiti negli ultimi 10 anni e i 5 migliori documenti di reddito tra gli ultimi 10 approvati e depositati in sostanza si trasferisce il qualificare l'impresa con delle caratteristiche che ne determinano la qualità anche nel privato oltre che nel pubblico anche nel privato certo la soglia d'ingresso è 516.000 euro sono dei lavori importanti di ristrutturazione o di riqualificazione energetica nel particolare il comma 10 bis della legge di conversione va a definire delle tempistiche precise a partire dal 1 gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023 le opere potranno essere affidate o ad imprese che hanno già l'attestazione SOA o ad imprese che dimostrano di aver fatto richiesta per il rilascio dell'attestazione SOA dal 1 luglio in poi invece sarà necessario affidare esclusivamente alle imprese che sono già in possesso dell'attestazione SOA e per quelle che si è iniziato nel periodo precedente che hanno fatto la richiesta le spese dal 1 luglio in poi saranno riconosciute per le agevolazioni solo se sarà già stato rilasciato questo certificato queste regole non si applicano per i lavori in corso e per quelli per i contratti con data certa antecedenti all'entrata in vigore della presente legge di conversione ora dal 2023 per importi superiori a 516.000 euro sarà necessario per agevolare le spese di ristrutturazione di riqualificazione energetica non solo super bonus ma anche degli altri bonus affidare sarà necessario affidare i lavori ad un'impresa che abbia o abbia richiesto la certificazione SOA Grazie a tutti i nostri spese di ristrutturazione